Inaugurati oggi alle ecco due appartamenti dedicati alle persone disabili e alla loro autonomia. Che cosa si sta facendo e da quanto tempo si va avanti con questo progetto? Questo è un progetto che è nato ormai tempo fa e questi appartamenti sono attivi da un anno, più di un anno, con ragazzi con disabilità che frequentano i servizi della rete del territorio. L'obiettivo è quello di sostenerli e accompagnarli in un percorso di crescita e di sviluppo delle autonomie. A collaborare al progetto anche la cooperativa Vecchia Quercia, di che cosa vi siete occupati in particolare? Abbiamo individuato dei gruppi di ragazzi, dei piccoli gruppi di ragazzi di 3-4 persone che stanno insieme sulla base anche di affinità caratteriali perché si conoscono e perché hanno espresso il desiderio e la voglia di provare a vivere da soli. Proponiamo delle settimane di autonomia all'interno di questi appartamenti che prevede la gestione della casa a 360 gradi, andare a fare la spesa, programmare il menu settimanale, gestire le proprie cose, convivere insieme ad altre persone che hanno le proprie abitudini e trovare anche delle mediazioni. Questo con la supervisione di un educatore formato che in qualche modo sta con loro e li accompagna in ogni passaggio di questa esperienza. La Fondazione Scola ha fatto tanto, ha messo a disposizione concretamente i due appartamenti? Sì, la Fondazione Enrico Scola ha sposato da subito questo progetto e siamo stati molto soddisfatti di mettere a disposizione questi due appartamenti che abbiamo all'interno dello stabile di Via Cairoli. Abbiamo fatto tanto ma ne abbiamo fatto anche poco perché poi in effetti è tutta l'organizzazione che c'è dietro che poi gestisce gli appartamenti, tutti i servizi comunali della cooperativa La Vecchia Quercia e dell'impresa sociale Girasole che poi effettivamente, effettivamente, svolgono le attività all'interno di questi due appartamenti.